Ciao a tutti, sono Matteo e siamo qui a Cambiago per il nostro consueto appuntamento con le novità settimanali. Vi ricordo che tutti i prodotti che vedremo oggi sono acquistabili e potete contattarmi al 351 690 4263 o su assistenza ai clienti chiocciolodimanoinmano.it. Oggi 12 articoli e nel dodicesimo articolo sorpresa finale con un nuovo membro, un nuovo membro, un membro della cooperativa che conoscerete. Partiamo con questo elegante gruppo di sei sedie di modernariato anni 50. Le sedie sono state completamente restaurate sia sulla seduta, imbottitura e tessuto, che per il legno. È un bellissimo colore secondo me di legno. Cosa dire? Che le misure sono 91 di altezza, 42 di larghezza e 44 di profondità. L'altezza della seduta è 46 centimetri e il prezzo per tutto il gruppo è di 1350 euro. Ovviamente Giada non mi ha appena picchiato per non avervi detto di iscrivervi se vi va al canale e di mettere un like a questo video. Passiamo, retrocedendo di 40-50 anni, a questa Dormeuse in stile neoclassico dell'inizio del ventesimo secolo. È in legno intagliato, laccato e dorato. Ci troviamo in Italia e come mi sta facendo vedere Giada è ornata da elementi di gusto classico, quali greche, elementi fogliaci e campanule. Lo schienale e la seduta sono imbottiti e rivestiti in velluto. Le misure sono 86 centimetri di altezza, 192 di larghezza e 68 di profondità. L'altezza della seduta è 43 centimetri e il suo prezzo è di 1350 euro. Passiamo ora a presentarvi due quadri. No, dipinti! Scusa, se mi sente il nostro Simone mi fulmina. Vi ricordo, approfitto, Simone Papini, nostro collega, fa dei bellissimi podcast che potete trovare su Spotify. Sentitele perché sono bellissimi. Torniamo al nostro Tommaso, eccolo là. Perché questo è appunto un dipinto di Tommaso Federico di Savoia. È un dipinto che risale al cavallo del 1700. È un olio su tela e ritrae il principe di Carignano, capostipite dei Carignano Savoia. È stato restaurato e ritelato. La cornice è antica ed è stata adattata. Il suo prezzo è di 3200 euro. Le misure sono 109 per 85. Oh, pronti? Eccolo qua. Il nostro divano, anni 80, ha due posti di produzione italiana. Con struttura rivestita in similpelle. Cuscini in espanso con rivestimento in velluto. Esatto, come potete vedere, è restaurato dai nostri laboratori. Quindi è pronto da mettere in casa. E cosa dirvi? Che le misure sono 93 di altezza, 150 di larghezza e 92 di profondità. Il suo costo è di 1900 euro. Cambio d'abito per presentarvi questo bellissimo salottino, anni 50. Già, tu continua a bere il tuo caffè che io presento i nostri articoli. Allora, dicevo appunto, è un salotto completo composto da divano e due poltrone, anni 50. L'imbottitore a molle e i cuscini in piuma. Rivestimento in velluto. E pensate che è originale del periodo. Le condizioni sono buone. Vi do qualche misura, che sono 96 cm di altezza, 197 di larghezza e 84 di profondità per il divano. Mentre le poltrone sono 98 cm di altezza, 84 di larghezza e 85 di profondità. I costi sono 780 euro per il divano e 520 euro per le poltrone. La mia calcolatrice poco fa mi ha detto che il totale, se voleste prendere l'arredo completo, è di 1300 euro. E chiaramente potete acquistare tutto ai contatti che vi ho dato. So che il rosa mi donava tantissimo, ma sono tornato in abiti di mano in mano per presentarvi questo altro dipinto. Di Pap Bertalan, che è un pittore ungherese, vissuto dal 1880 al 1913. Come si può notare dalla firma in basso a destra, l'opera è del 1912, una delle sue ultime opere. È un olio su tela, appunto firmato e adattato in basso a destra, con cornice dorata di metà 900. Le misure sono 110 di altezza, 130 di larghezza e il suo prezzo è di 2400 euro. Passiamo ora a questa porcellana Staffordshire, che arriva dall'Inghilterra, prodotta tra il 1860 e il 1880. È una porcellana bianca, con ritocchi in policromia, raffigurante una coppia di contadini scozzesi di rientro dal raccolto. Le misure sono 32 centimetri di altezza, 21 di larghezza e il suo prezzo è di 150 euro. Prima di presentarvi questa coppia di tavolini, vi ricordo che dal 6 al 14 aprile a Milano, il nostro negozio di Milano, Viale Spinasse 99, ci sarà Anticontemporaneo, dove saranno mixati prodotti antichi con prodotti di design e contemporanei. Vi aspettiamo e quindi passiamo a questa coppia di tavolini, come vi dicevo, orientali. Una coppia di tavolini rotondi, laccati, nella Cina del XX secolo. La struttura è in legno laccato, ornata da motivi orientali dipinti color oro. I piani sono decorati con scene raffiguranti figure femminili danzanti, realizzate in pietra saponaria. Non so se dalle immagini si nota appunto la profondità. L'altezza dei tavolini è 38 centimetri, il diametro è di 80 centimetri e il prezzo è di 1300 euro per la coppia. Prima della sorpresa finale, chiudiamo con due tavoli molto diversi tra loro. Il primo è questo tavolo in stile impero del XX secolo. Ci troviamo in Italia e abbiamo un bellissimo piano in marmo verde. La fascia sottopiano è intagliata e sorretta da montanti, raffiguranti sfingi dorate e raccordate centralmente da traversa. I piedi sono intagliati e le misure sono 80 centimetri di altezza, 226 di larghezza e 97 di profondità. Provate a immaginare che impatto potrebbe avere nel vostro salotto. Il prezzo di questo tavolo è di 1200 euro. Cambiamo completamente stile per questo tavolo argentino anni 50, con struttura in legno di faggio tinto, piano con legno in piallacciato radica e importanti puntali in ottone. Guardate che belle gambe che ha. È stato completamente restaurato. Le sue misure sono 77 centimetri di altezza, 170 di larghezza e 106 di profondità. Il suo prezzo è di 2600 euro. Non so se lo sapete, ma qui a Cambiago abbiamo un vasto allestimento di libri nella nostra libreria fisica. Ma oltre a questa abbiamo anche una libreria online. L'altra volta abbiamo presentato il nostro bel restauratore. Questa volta invece do la parola alla nostra libraia. Ciao, io sono Raffaella e assieme ad altre colleghe mi occupo delle tre bellissime librerie della Di Mani in Mano. Abbiamo due librerie fisiche che trovate in nostri negozi di Cambiago e di Milano, che sono delle librerie a scaffale aperto. Anche se non hanno una classificazione digitale, potete trovare quello che cercate con una classificazione precisa, fatta da noi libraie. E poi abbiamo una terza libreria che è una libreria online, quindi è una classificazione digitale. La potete visionare tutto il nostro catalogo su di manoinmano.it. Però è a scaffale chiuso, i libri sono nel magazzino di Cambiago. Quindi se avete bisogno di visionare particolari degli articoli, possiamo farvi delle fotografie, dei video aggiuntivi oppure farveli trovare nei negozi fisici per visionarli dal vivo. Il materiale è tantissimo, fate conto che solo la libreria online ora conta 40.000 titoli. Abbiamo quindi tantissimo materiale che spazia dalla saggistica, dalla narrativa, la varia manualistica appunto, ma anche e soprattutto nel nostro catalogo online trovate chicche, edizioni particolari, edizioni rare, o libri antichi, piuttosto che tirature limitate, prime edizioni. Ho portato un pochettino qualcosa da farvi vedere, in particolare ho scelto di farvi vedere tre articoli, poi se vi incuriosisce qualcosa di più mi potete contattare all'assistenza clienti. Il primo libro che ho scelto da fare vedere, molto bello, questo è il libro più antico che possediamo. È edito nel 1589, vi faccio vedere. Sarebbe un trattato di meccaniche e di matematica, cioè l'autore, che si chiama Bernardino Baldi, è un architetto oltre che matematico e poeta, ha fatto proprio una raccolta di quelle che lui chiama macchine moventi, quindi uno dei primi trattati su questo genere, su questo tema. Guardate che bello, è fatto con incisioni calcografiche, ce ne sono diverse, e poi è proprio curatissimo nei dettagli, guardate la prefazione, è così elegante, ho anche i capolettera, molto molto bello. Oltre a questo abbiamo tantissimi altri libri antichi e rari, lì trovate, c'è proprio una sezione dedicata sul sito. Poi il secondo articolo, oltre, vi dicevo, abbiamo anche delle prime edizioni di romanzi. Questo in particolare, che volevo segnalarvi, è la raccolta famosa di Pascoli Mirice, ed è la prima edizione di questa raccolta, vi faccio vedere, è del 1892. Pascoli ha raccolto 72 poesie, anche qui la veste grafica è molto elegante. Tutte queste raccolte dedicate al padre Ruggero. E poi, oltre a tiratura limitata e prime edizioni di libri antichi, abbiamo anche dei cataloghi d'arte. Oggi volevo mostrarvi un, in particolare, un catalogo di fotografia in super anteprima, perché ancora non lo trovate sul sito, lo stiamo, dobbiamo fotografarlo, però vi do quest'anteprima, così se vi interessa mi contattate. Il fotografo è William Klein e il catalogo si chiama Rom. E c'è una storia curiosa su questa raccolta di fotografie. Mentre vi mostriamo qualcosa, ve la racconto. Allora, William Klein era stato chiamato dal famoso regista Fellini per le riprese del film Le notti di Cabiria. Succede che per qualche problematica le riprese si fermano, si interrompono e quindi Klein approfitta per fotografare tutta Roma e il set fotografico. Quindi questa raccolta di fotografie è un po' il risultato di questo imprevisto di lui che ha fotografato la bellezza di Roma e anche la bellezza dell'italianità. Bene, se vi è incuriosito qualche articolo che vi abbiamo fatto vedere in questi video potete contattare l'assistenza clienti. Vi lascio qui sotto tutte le specifiche. Grazie e al prossimo video.